Salerno Capitale è la dicitura colloquiale con cui si fa riferimento al periodo di 5 mesi che va dall'11 febbraio al 15 luglio 1944 della storia d'Italia, in cui Salerno fu sede provvisoria del governo italiano. La città divenne capitale esecutiva e legislativa, ma non fu mai proclamata capitale costituzionale, la quale rimase sempre Roma. In tale periodo si verificò la cosiddetta svolta di Salerno, realizzata dal compromesso degli antifascisti, della monarchia e di Badoglio, per la nascita e la realizzazione di un governo di unità nazionale. Il tutto si concretizzò all'alba del 9 settembre 1943, quando la Quinta Armata americana sbarcò sul litorale salernitano ed aprì piano piano la strada per arrivare a Roma. Tale operazione passò alla storia come sbarco di Salerno. La città, seppur incredula, accolse con entusiasmo i liberatori, tant'è che le donne porgevano l'oro ramoscelli d'ulivo. Lo sbarco degli alleati simboleggiò per il popolo ferito la fine della guerra. Il prezzo pagato da Salerno fu altissimo, 400 morti, migliaia di feriti. I danni materiali furono enormi, 15.000 avani distrutti, oltre 100 ponti danneggiati e un quinto dei fabbricati industriali andò perduto. In questo frangente venne ideata a Salerno la Carta Costituzionale, presente nella Gazzetta Ufficiale del 1944, la quale conteneva il testo di legge che rimandava alla fine della guerra e il referendum istituzionale sulla monarchia o sulla repubblico. Il 4 agosto 1944 Roma fu liberata dai tedeschi ed il governo continuò a riunirsi nella città salernitana fino a metà agosto 1944, quando si trasferì definitivamente a Roma, facendo terminare così l'avventura di Salerno Capitale. In questi pochi mesi prese forma un governo il quale costituì l'inizio della storia della rinascita come popolo, come democrazia e come governo. Per dare la possibilità di conoscere la storia della città alle generazioni future, nel settembre 2012 venne inaugurato il Museo dello Sbarco di Salerno Capitale. La mostra permanente è stata realizzata dall'Associazione Parco della Memoria della Campania, guidata da Nicolo Datti, il cui scopo è di mantenere vivo il ricordo degli eventi che dilaniarono la costa salernitana. I reperti esposti provenienti dalla collezione dell'Associazione Parco della Memoria della Campania sono circa 200, tra video e foto dello sbarco, medaglie divise dell'esercito tedesco ed americano, armi, un carro armato ed un vagone ferroviario piombato, utilizzato dai nazisti per deportare gli ebrei italiani nei campi di concentramento. Esso rappresenta una rara testimonianza della Seconda Guerra Mondiale, in quanto al mondo ne sono rimasti solo pochi esemplari. La storia e la memoria hanno al loro centro il ricordo, che serve per salvare il passato dal tempo e dall'oblio. Il museo mette in pratica questo concetto, non dimenticando il passato, ma tentando di ripartire da ciò che è successo per andare avanti.